Ben ritrovati ad una nuova puntata di Il Libro del Mese. In realtà questa volta i libri saranno tre. Hanno in comune il fatto di essere dei romanzi biblici. Perché scrivere un romanzo sulle storie della Bibbia? Non sono storie note, arcinote? Forse, ma ne siamo proprio sicuri. Conosciamo davvero tutti gli episodi, tutte le particolarità del racconto biblico? E in secondo luogo, ogni storia viene rielaborata attraverso la sensibilità del narratore, che talvolta in modo curioso, magari anche apparentemente incongruente, fa emergere un punto di vista particolare, che può fornire degli spunti di riflessione impensati. Il primo libro che vogliamo presentare è Chi dice la gente che io sia di Gennaro Mattino. La vicenda che ha raccontata è niente meno quella del Vangelo, partendo dall'annuncio della nascita del Battista Zaccaria per arrivare fino alla Ressurrezione e in modo molto sintetico alle vicende degli Atti degli Apostoli. La particolarità è che il protagonista della storia è naturalmente Gesù, ma in ogni singolo capitolo questo protagonista resta in secondo piano. Vengono avanti per ogni capitolo, per ogni episodio, i personaggi secondari. Possono essere personaggi di primo piano, come gli Apostoli Pietro, Giovanni, Simone, la Maddalena, il Battista, ma possono essere anche personaggi che nel Vangelo occupano solo una pagina o poco più di una riga. La Samaritana, per esempio, o l'Adultera, o il Servo delle Nozze di Cana, che l'autore ci dice chiamarsi Giacomino. Una particolarità di questi romanzi è proprio questa. Il testo biblico spesso è asciutto. È come un affresco di cui siano rimasti pochi, ma significativi resti e che l'artista, con la sua sensibilità, ma partendo proprio da questi resti, ricostruisce, inventando un passato, un'umanità, ai personaggi che vengono presentati. Ecco così che, per esempio, di Zaccaria, padre del Battista, veniamo a sapere che è una persona tormentata che per lui il non avere un figlio era un motivo di profondo crucio, che aveva minato anche la sua fiducia nel Signore. Oppure veniamo a conoscere il passato dell'Adultera, di come dalla sua infanzia sia poi giunta ad essere sorpresa in flagrante adulterio. L'autore Gennaro Mattino riprende quindi le storie del Vangelo, aggiungendo dettagli di umanità e anche dettagli che ci aiutano a ricostruire lo sfondo storico e l'ambiente dell'epoca. Abbastanza vicino per contenuto, ma con un taglio differente, è Petros di Massimo Tellan. Anche qui l'argomento è il Vangelo, ma sotto una prospettiva un po' diversa. Qui il punto di vista unico è quello dell'Apostolo Pietro. Il libro comincia proprio con Pietro, anziano, nel carcere romano, alla vigilia della sua esecuzione capitale, che ripercorre la vicenda del suo rapporto con Gesù, a partire dalla chiamata per arrivare fino all'ascensione. Ecco quindi che ogni capitolo racconta un episodio del Vangelo o due episodi concatenati. Dal punto di vista però di Pietro, quindi di come lui abbia accolto la novità che Gesù manifestava nel singolo episodio e di come poi, ormai anziano, abbia rielaborato questo insegnamento alla luce di tutta la vicenda di Gesù. Anche in questo caso la figura di Pietro viene ricostruita dall'autore. Veniamo a sapere che, per esempio, da giovane era rimasto affascinato dai movimenti di rivolta contro i Romani. Il Vangelo stesso ci racconta che Pietro aveva una suocera. Se aveva una suocera doveva essere sposato. Ecco allora che l'autore molto in sintesi ci racconta l'antefatto di come Pietro avesse avuto una moglie, di come questa moglie fosse mancata presto lasciandolo con la suocera. A differenza del romanzo di Mattino, Pietro lascia un pochino più spazio alla riflessione, al ruminare gli episodi del Vangelo, al tranne un insegnamento, un succo. Gli episodi... non dimentichiamo che tra gli episodi fondanti non c'è solo la vocazione. C'è anche il momento in cui Pietro scende dalla barca e viene fatto camminare sulle acque da Gesù. Questo soggetto della copertina, tra l'altro, opera dell'autore del libro. Il terzo romanzo che vogliamo presentare è forse il più originale dei tre. Nostalgia di casa di Ernesto di Fiore. Più originale intanto per il soggetto. Non siamo nel Nuovo Testamento ma il protagonista unico è Abramo. E già questa è una scelta felice da parte dell'autore. Il libro della Genesi ci racconta già parecchie cose di Abramo e questi racconti hanno talvolta già un gusto di romanzesco. C'è una grande storia d'amore, quella con Sara. Ci sono viaggi, incontri con popoli e personaggi particolari, battaglie, incontri speciali. Ecco, l'autore, come caratteristica di questi romanzi, parte da questi fatti, dal racconto biblico, per costruire il proprio racconto. Ecco dunque che alla figura di Abramo si accostano altre figure. Quella di Sara, innanzitutto già nominata, ma anche figure di grande amicizia, col servo Eliezer, con Rea Bimelec, con la strana figura del re sacerdote Melchisedec. Nella parte centrale del volume poi l'autore aggiunge qualcosa di suo, inventa uno scontro, una lotta tra Abramo e un misterioso leone dalla pelliccia nera che avrà la sua spiegazione nel proseguio del libro. Romanzo dunque, ma non solo. Fin dall'inizio c'è un forte tema di riflessione. Il romanzo inizia con Abramo Bambino che parla con l'anziano nonno Nacor, il quale instilla nel suo cuore la nostalgia di qualcos'altro. La famiglia di Nacor è una famiglia di nomadi. Nomadi non solo per condizione, per caso, ma perché riconoscono nel nomadismo un qualcosa che è proprio dell'essere umano, un essere in cammino, un essere alla ricerca verso qualcosa di cui si ha nostalgia, qualcosa che si cerca incessantemente. E questo qualcosa emerge subito, è il cuore di Dio. Lungo tutto il percorso del libro seguiamo il percorso di Abramo che ripercorre naturalmente l'itinerario biblico, ma non è un percorso diritto. Ci sono dubbi, tentennamenti, qualche sbandamento e la tentazione di creare da sé delle scorciatoie che rischiano di portare fuori strada, ma che vengono poi raddrizzate dall'intervento di Dio. Nostalgia di casa è dunque un romanzo sia molto piacevole, sia che dà parecchi spunti di riflessione, proprio partendo da questa figura di Abramo nella quale ogni credente può ritrovare un po' di sé stesso. La fine del libro è molto particolare. La vicenda di Abramo, come è raccontata nella Bibbia, la conosciamo tutti. Ha questa fine che degna veramente di un film di suspense, il sacrificio di Isacco. Ma questo sacrificio di Isacco nel libro prelude a qualcos'altro, prelude al fatto che la vicenda di Abramo continua oltre il suo figlio, oltre la discendenza che gli viene promessa. Arriva fino a intravedere la figura del giusto che verrà sacrificato, la figura di Gesù. E attraverso questo a guardare alla storia dei secoli. Buona vettura dunque e buona giornata.